Ci troviamo su una delle imbarcazioni che sono giunte ieri sera a Sciacca e che si trova qua al molo di Levante del porto. Stiamo parlando del Truffi Beille-Suffren, 16 importanti imbarcazioni, due sono appunto come dicevo qua sul molo di Levante, mentre le altre 14 le troviamo nel molo messo a disposizione dalla Lega Navale a Gaia di Garaffe. Imbarcazioni molto belle e che sicuramente stanno incuriosendo molto i cittadini che stanno venendo a visitarli già fin dalle prime ore del mattino. Ci spiegano l'iniziativa Pierrugò e Silvia Figari che sono due dei responsabili di questo trofeo e l'assessore Ferrara, assessore al turismo che naturalmente si dice soddisfatto non solo per la presenza di questi importanti personaggi e di queste straordinarie imbarcazioni, ma anche perché tutto questo sta portando un ritorno economico alla città. È il trofeo più importante che è organizzato, è l'unica corsa regata a largo nel Mediterraneo in questo stile con barche d'epoca. Siamo partiti da Saint-Tropez e dovremmo finire a Malta lunedì, vedi martedì per le barcazioni più piccole e per un totale di 890 miglia circa. Allora questa barca è una replica identica a quella che era Atlantique nell'epoca. Atlantique Ed Castellan che tra l'altro è a bordo con noi, che è l'armatore, che è colui che l'ha anche rifatta, ricercando i piani d'epoca, ha ricostruito fedelmente la barca, l'unica cosa che cambia sono, non ci sono più le macchine a favore ovviamente, ma abbiamo una tecnologia moderna oggi con un motore moderno e è da una barca che è stata varata nel 2010 e si vede dall'anno scorso nel nord Mediterraneo, quest'anno resterà in giro per la Sicilia. Non ha ancora riuscito a fare la visita vera e propria della città, da un primo impatto gli è piaciuta molto, è molto contento dell'accoglienza che ci è stata data sia dall'amministrazione che dalla Lega Navale e dal circolo nautico Corallo che ospitano le nostre imbarcazioni e scenderà a terra poi nel pomeriggio facendo una visita guidata, ma di primo acchitto molto bella e per quanto riguarda l'anno prossimo vediamo. Stiamo avendo un momento di promozione turistica importante perché oltre a loro ci sono dei giornalisti di varie riviste di vela che parleranno della regata e della città di Sciacca, sono ospite qui di questa regata e quindi sono con noi e stanno visitando la città e quindi per noi già è questo momento molto importante. Poi hanno messo su quadro la città di Sciacca perché stanno coinvolgendo le alanderie, sui mercati, mi hanno ordinato 100 bottiglie di champagne, insomma voglio dire c'è un bel movimento già che si è creato e credo che sia una bella cosa perché comunque può diventare una tappa importante e se ne è parlato in tutto il mondo, in questo mondo tra virgolette di vela perché a San Trope si parlò di Sciacca, a Porto Tondo si parla di Sciacca, a Malta si parlerà di Sciacca, quindi voglio dire è un momento importante. Diamo una certa valenza a questo territorio che punta anche su un turismo di elite, infatti Roccoforte è il nostro sponsor di questa manifestazione assieme a Moncada Energy e assieme alla Mezzacorona di Sambuca, quindi credo che sia una bella iniziativa.